Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video in cui approfondiremo il transito di Saturno in pesci. Transito lungo, durerà circa tre anni ed è molto importante, molto significativo perché Saturno uscirà da uno dei suoi domicili dopo tanto tempo. Dalla fine del 2017 Saturno che è entrato nel Capricorno finora quindi per quasi sei anni ha potuto transitare in segni governati da lui sostanzialmente, il suo domicilio notturno il Capricorno. Il suo domicilio diurno è l'Acquario, quindi era un Saturno molto forte e a partire dal 7 marzo invece Saturno lascia uno dei suoi domicili, è pertanto un passaggio veramente molto importante che a tratti potremmo anche definire drammatico per il pianeta. Bene, vediamo quindi questo approfondimento partendo da delle immagini che descrivono sostanzialmente questo nuovo cambio, questa forza di Saturno che nei pesci assume delle qualità, delle caratteristiche particolari. Innanzitutto Saturno è il nostro superiore, è un pianeta molto legato alla disciplina che in un segno zodiacale come quello dei pesci che è molto legato invece al misticismo e alla trascendenza ci parla di disciplina nell'ambito spirituale. Saturno da questo punto di vista quindi ci introduce una tematica molto importante perché nel segno dei pesci, che è un segno molto evasivo, molto emotivo, che tende al misticismo e alla trascendenza, siamo tentati da solitamente degli impulsi che potremmo definire antroposoficamente luciferici che ci portano incontro a un tema di evasione dalla realtà, di fuga dalla realtà. Questo non è più possibile con Saturno nei pesci in quanto Saturno rappresenta anche la rinuncia, la privazione e la disciplina e quindi il primo grande significato che possiamo attribuire a Saturno nei pesci è proprio quello di disciplina spirituale oppure potremmo anche dire di vera e propria responsabilità spirituale. Quindi ci viene negata qualsiasi forma di evasione dalla realtà con Saturno che sappiamo essere un pianeta da questo punto di vista anche pesante, ma in questo senso fin di bene perché se finora abbiamo indugiato magari all'interno di fantasie o immagini di un percorso spirituale non aderenti ad una realtà, ecco che Saturno nei pesci può rappresentare una vera e propria forma di risveglio. Dopodiché Saturno ci introduce sempre rispetto a questa tematica legata alla responsabilità in ambito spirituale, la tematica del sacrificio, la tematica anche della richiesta di un sacrificio perché i pesci sono un segno zodiacale molto sensibile che risuona senza ombra di dubbio con il tema della sofferenza e i pesci ci propongono sempre una spiritualità che in qualche forma risuoni con il dolore, risuoni con la sofferenza e per questo motivo, anche per questo motivo, i pesci sono il segno del cristianesimo, di questa religione dove abbiamo queste immagini della croce che ovviamente ci porta a una tematica di sacrificio legata a che cosa? A un tema di redenzione o se vogliamo di responsabilità, quindi non solo possiamo attribuire a Saturno questa tematica di responsabilità spirituale, ma addirittura Saturno in pesci ci introduce un tema di rinuncia personale, di sacrificio personale in virtù del nostro percorso spirituale. Questo è molto importante perché chiaramente sappiamo che nel nostro percorso interiore a volte ci sono chieste delle rinunce, dei sacrifici da fare. Ecco questa tematica della responsabilità non si limita solamente all'ambito spirituale ma anche a quello animico, cioè della psiche. Infatti siamo chiamati a prendere posizione nei confronti di un'emotività, di un elemento acqua che nei pesci può risultare veramente intensa, se non addirittura soverchiante, per prendere in mano la nostra vita interiore di nuovo con questa tematica di disciplina e di responsabilità. Questo ci porta di fronte sicuramente ad una scelta perché senz'altro qui dobbiamo prendere una presa di posizione, ovvero dobbiamo decidere se vogliamo in un certo senso ignorare l'impulso di Saturno e continuare a sognare, anche sognare lo spirito e la spiritualità o a sognare determinate dinamiche interiori che riguardano la nostra psiche, o se vogliamo invece abbracciare questa potente simbologia di Saturno in pesci che si può riassumere con la parola chiave disillusione fondamentalmente. Quindi la domanda di Saturno nei pesci è vogliamo continuare a vivere in fantasie, in questo mondo di sogno che i pesci ci propone, oppure vogliamo svegliarci? Ma soprattutto possiamo anche chiederci cosa accade se non vogliamo svegliarci, cioè cosa accade se non abbracciamo l'impulso di Saturno nei pesci, che come sappiamo è un pianeta molto severo. Uno dei significati di Saturno è senz'altro quello della paura. Paura e controllo sono due simbologie molto legate a Saturno. Sicuramente la simbologia di controllo nei pesci vacilla, è un controllo che può diventare una buona disciplina spirituale, ma in altre forme dell'esistenza il significato di Saturno come controllo nei pesci senz'altro decade, ma rimane quello della paura. Per questo motivo le nostre illusioni, se vogliamo continuare a preservarle, quindi a non risvegliarci, non abbracciare la chiamata di Saturno di disilluderci, se noi quindi indugiamo in questi sogni, in queste fantasie perché vogliamo evadere dalla realtà, queste si trasformano con Saturno in veri e propri incubi, sono addirittura delle paranoie. Pertanto al posto di un maturo senso di responsabilità che ci permette di affrontare anche la realtà, sebbene sia amara però con fermezza, abbiamo invece queste fantasie che si riempiono di fantasmi. Ecco, questo può anche diventare una vera e propria paura dello spirito, quindi di rifiutare il percorso spirituale disilluso che Saturno ci pone davanti, perché fondamentalmente abbiamo paura di addentrarci proprio là dove si trova Saturno, e quindi questa paura ci porterebbe a levitare, di abbracciare questo senso di responsabilità fondamentalmente. Ecco, quindi l'impulso spirituale di Saturno nei pesci è potente, richiede responsabilità, sacrificio e anche rinunce. Saturno come rinuncia e responsabilità ci porta alla rinuncia e alla responsabilità anche di sostanze che alterano il nostro stato di coscienza. Parliamo ovviamente di alcol, se non addirittura peggio, droghe, ma anche psicofarmaci, tutto ciò che in un certo senso altera il nostro stato di coscienza, questo perché gli stati alterati di coscienza appartengono proprio al segno dei pesci. Chiaramente il nostro rapporto con i medicinali, magari anche con gli psicofarmaci, è molto delicato, è molto personale, io non intendo assolutamente criticarlo, anzi, tuttavia Saturno nei pesci ci può portare a fare delle considerazioni rispetto a quanto ci affidiamo a certe sostanze per migliorare la nostra condizione psichica e quanto invece possiamo magari sostituirle con una disciplina interiore maggiore. Questo perché ricordiamoci che Saturno rappresenta la rinuncia e la privazione, quindi la rinuncia e la privazione di sostanze che ci permettono da un lato magari anche di avere uno stato interiore più stabile come può essere il positivo effetto di psicofarmaci che vengono assunti con responsabilità ovviamente, ma dall'altro lato Saturno nei pesci in questo senso può anche riguardare alla rinuncia, alla privazione di piaceri o di uso ricreativo di determinate sostanze per permetterci di attingere a stati alterati di coscienza non attraverso il loro uso o abuso in alcuni casi, bensì attraverso una disciplina. Quindi vedete come Saturno rimanga sempre un pianeta duro, ruvido, anche in un segno così emotivo. Sicuramente quello che ci viene negato qui è una fuga dalla realtà e ripeto se indugiassimo in questo gesto di voler evadere la realtà in un mondo di sogno Saturno ci porterebbe a un risveglio a causa del fatto che le immagini di sogno qui diventano immagini di incubo fondamentalmente. Ecco i pesci sono tra l'altro un segno zodiacale molto legato all'arte quindi è importantissimo il dibattito che si sta andando a creare oggi rispetto al mondo dell'arte in ambito professionale. Saturno è il nostro io formale, rappresenta anche le professioni in ambito artistico. Ricordiamo che nei pesci troviamo l'esaltazione di Venere quindi l'adea dell'amore ma soprattutto della bellezza qui esplode in un mondo di creatività. Ecco qui Saturno si inserisce in un dibattito legato alla professionalità degli artisti legato alla nuova sfida dell'intelligenza artificiale. Sapete tutti come oggi diverse intelligenze artificiali allenate con tantissime immagini reperibili gratuitamente in rete abbiano portato ad una vera e propria crisi nel mondo dell'arte e ad un dibattito legale legato al fatto che non è corretto che uno strumento come un'intelligenza artificiale venga allenata con delle immagini che non vengono riconosciute a livello di diritti d'autore. Quindi ora ci sono delle cause che vengono portate avanti per creare dei precedenti affinché le intelligenze artificiali che creano immagini vengano addestrate, vengano allenate con immagini che devono essere tutte portate da copyright e questi diritti garantiti e riconosciuti dagli artisti originali in modo tale che gli artisti non si sentano derubati per così dire dei loro talenti da un'intelligenza artificiale. Ricordiamo anche le drammatiche conseguenze di avere il potenziale di creatività artistico dell'essere umano privato dal mondo delle macchine perché se le macchine iniziano a creare opere d'arte tra virgolette non lo fa più l'uomo e se non lo fa più l'essere umano a questo punto la possibilità di ricollegarsi tramite l'arte allo spirito viene ovviamente meno. Quindi è sicuramente un dibattito che è molto attuale che in questi tre anni in cui Saturno resterà nei pesci porterà a livello legale a dei punti chiari. Abbiamo inoltre il significato di Saturno come vecchiaia che attraversa tra l'altro l'ultimo segno zodiacale, i pesci e dal momento che appunto Saturno rappresenta l'età abbiamo qui la percezione di un vero e proprio cambio generazionale quindi Saturno nei pesci completa in circa 30 anni il suo ciclo dello zodiaco e completandolo chiude diciamo così una generazione quindi c'è veramente la chiusura della percezione di una generazione così come c'è la chiusura della percezione di un mondo e lo vedremo magari meglio a livello geopolitico che pensavamo potesse andare avanti per sempre. Ecco questa tematica geopolitica è legata alla simbologia dei pesci legata ai mari e Saturno come il signore dei limiti il signore dei confini ecco si sta svolgendo dal punto di vista geopolitico una vera e propria rivoluzione un cambiamento legato sia alla guerra tra Russia e Ucraina sia legato al fatto che la Cina si sta armando e sta diventando una potenza navale sempre più rilevante al momento i mari sono totalmente controllati dagli Stati Uniti e gli Stati Uniti stanno svolgendo un'opera di confinamento marittimo navale della Cina attraverso un programma che coinvolge gli alleati quindi il Giappone, chiaramente l'Australia, le Filippine e così via insomma c'è un progetto di contenimento saturno di confini che sono legati a un luogo che per definizione confini non ne ha cioè il mare ecco che quindi abbiamo di nuovo la simbologia di Saturno in pesci entrare all'interno di queste simbologie e questo tema lo riprenderemo più avanti all'interno di questo video perché dobbiamo un attimo capire quali anni sono i più sensibili da questo punto di vista sono i più significativi nel transito di Saturno nei pesci ecco vediamo anche un attimo la carta di Saturno nei pesci vedete questa carta è molto particolare perché avviene in concomitanza alla luna piena nella Vergine ne abbiamo parlato nel video precedente quando abbiamo descritto il transito del sole attraverso i pesci è proprio come durante il tema di luna piena il tema di luna piena veniva poche ore prima dell'ingresso di Saturno nei pesci quindi questa carta è quasi identica domificata per il 7 marzo a Roma nel momento in cui Saturno entra a zero gradi pesci infatti la carta è veramente molto simile a quella che abbiamo già visto e quello che figura in questa carta di particolare è senz'altro questo stellium nei pesci vedete che il carico di energie qui è molto forte quindi parliamo di un intenso ammasso di pianeti ben quattro pianeti nel segno dei pesci che io considero uno stellium ecco questo non è sempre condiviso da tutti gli astrologi che invece considerano gli stellium solo in virtù di accumuli di congiunzioni più strette ecco dal mio punto di vista il cielo ha invece una carica di energia emotiva molto forte pertanto l'ingresso di Saturno nei pesci porterà a delle fasi anche drammatiche e questa drammaticità se vogliamo rappresentata anche dalla tensione che esiste non solo ovviamente tra i due luminari che sono in opposizione per definizione in una luna piena ma anche per la presenza di Marte che chiude i due luminari in una configurazione a T quadrato che porta grandi tensioni legate a questo ambito anche appunto la guerra e ne abbiamo parlato anche in riferimento alla cometa di Neandertal perché abbiamo visto che questa cometa ha attraversato in una congiunzione molto stretta che è stata tra l'altro fotografata da moltissime persone ecco la traiettoria della cometa di Neandertal ha proprio incrociato Marte quindi abbiamo un'indicazione anche di cambiamenti o sconvolgimenti legati all'ambito che Marte rappresenta quindi la guerra questo è anche suggerito dal fatto che tutti questi pianeti che si trovano nei pesci sono governati da il signore dei pesci che è il pianeta Giove e Giove dove si trova? Giove si trova in Ariete che è un segno zodiacale guerriero ne abbiamo parlato in un articolo precedente non in un video ma il transito di Giove in Ariete sostanzialmente rappresenta degli ideali di forza degli ideali di integrità, degli ideali chiaramente legati all'essere un guerriero e risuona molto con delle filosofie orientali legate per esempio alle arti marziali cosa che Giove in Ariete sicuramente esprime molto bene e in questa carta troviamo Giove in congiunzione a Venere una Venere che non è ben messa perché vediamo che Venere è in Ariete il luogo del suo esilio e da questo punto di vista Venere sebbene non sia diciamo ben disposta perché ci porta il piacere per la lotta, il piacere per la battaglia il piacere per lo scontro anche o anche la scelta dello scontro perché Venere ci porta a scegliere ciò che noi ciò che ci piace fondamentalmente sebbene Venere non sia in ottima forma tuttavia è pur sempre Venere quindi un pianeta benefico che riesce a stemperare questo eccesso di bellicosità attraverso comunque ciò che Venere per definizione è cioè una dea dell'equilibrio diciamo che qui non riesce ad esprimersi in questo senso al massimo ma nella sua veste di pianeta benefico cercherà comunque di stemperare questa situazione per l'Italia in particolare vediamo che l'ascendente cade in leone e abbiamo il signore dell'ascendente, il sole Giove già virtualmente in casa nona e Giove sempre in casa nona parliamo quindi dell'estero, del rapporto dell'estero e lo stellium abbraccia fondamentalmente soprattutto con la presenza di Saturno, signore dell'ottava la casa ottava che è la casa della finanza quindi parliamo del debito italiano che probabilmente verrà aggravato ancora di più da questa situazione ma ecco questa situazione del debito inizierà ad essere veramente più pesante dal mio punto di vista visto che questo stellium, questo carico di pianeti nei pesci porterà una grande emotività legato a questa tematica quindi possiamo aspettarci che l'Italia verrà coinvolta in questi tre anni principalmente dal punto di vista economico e non a suo favore se invece vediamo la mappa del mondo l'astrocartografia del transito, dell'ingresso di Saturno nei pesci vediamo invece come in alcune parti del mondo proprio in concomitanza all'ingresso di Saturno nei pesci troviamo Saturno occupare dei punti molto molto importanti in questa linea rossa troviamo Saturno all'ascendente è molto interessante che attraversi proprio Los Angeles quindi nel momento in cui Saturno entra nei pesci sorge fondamentalmente è sull'ascendente a Los Angeles e in questo senso Los Angeles essendo un centro estremamente creativo legato all'arte credo che questo aspetto legato all'intelligenza artificiale al dibattito che ho accennato precedentemente interesserà questa città vedremo se sarà così altri punti salienti sono Saturno al Medio Cielo c'è Saturno che culmina al mezzogiorno per così dire nel momento in cui entra nei pesci e questo avviene a Fortaleza e Salvador due città del Brasile e sicuramente di grandissima importanza il transito sul discendente quindi Saturno che sta tramontando dove a San Pietroburgo e a Mosca al momento del suo ingresso nei pesci chiaramente è molto sfavorevole dal punto di vista della guerra allude anche a questa situazione di logoramento di guerra di logoramento in cui la Russia sta insistendo fondamentalmente e altro aspetto interessante sebbene Kiev non sia interessata da questa posizione di Saturno sul discendente al momento dell'ingresso di Saturno nei pesci ciò nonostante rimane un Saturno in casa settima e come se non bastasse comunque questa linea attraversa il Donbass che è una regione sicuramente molto sensibile e delicata da questo punto di vista quindi casa settima o discendente che sicuramente il discendente è il punto più potente della casa settima inizio o cuspide della casa settima che cos'è? beh è il rapporto con gli altri in generale in questo caso è il rapporto di un paese con gli altri paesi se non addirittura il rapporto con i nemici la casa settima è la casa dei nemici pubblici che conosciamo aperti che abbiamo davanti di noi e Saturno prefigura degli scenari non certo rosei anche perché ricordiamo che c'è un rapporto molto stretto tra la carta della Russia la carta di Putin e la carta dell'Ucraina soprattutto la luna dell'Ucraina che se non ricordo male in acquario quindi in opposizione al plutone di Putin che cade sull'ascendente della Russia c'è veramente un incastro mirabile tra queste carte e l'attivazione di questo incastro è rappresentato dal transito di Saturno che finirà comunque nella primavera che ha attivato questa situazione che non sembrerà finire presto insomma tuttavia ricordiamo che è proprio Saturno l'attivatore di questo incrocio di transiti e ecco questo transito avvenuto tra l'altro in concomitanza al ritorno di Saturno nelle carte dei paesi fondati nel 91 dopo il crollo dell'Unione Sovietica tema che prenderemo in considerazione non è in merito all'89 quindi il crollo del muro di Berlino perché abbiamo un'analogia di transiti che vedremo a breve ecco se ci spostiamo ora considerando invece i transiti che Saturno effettuerà con i pianeti più lenti diciamo da Giove in su a cavallo tra il 2021 e il 2025 vediamo che partiamo dal 2021 in cui abbiamo assistito alla congiunzione tra Giove e Saturno in realtà la congiunzione è avvenuta nel dicembre del 2020 in un momento veramente particolare perché era il sostizio d'inverno del 2020 in cui le due stelle erano in congiunzione brillavano nel cielo come tra l'altro la stella di Betlemme sotto Natale era un'immagine veramente bella molto potente e vediamo che questo rapporto tra Giove e Saturno evolve per così dire nel ciclo Giove e Saturno nel primo aspetto che fanno dopo la congiunzione che è il sestile come interpretiamo questo sestile come il primo svelamento del seme che il ciclo Giove e Saturno ha seminato nel segno dell'acquario alla fine del 2020 e questo ciclo a che vedere con un grande cambiamento nella fase diciamo sociale umana perché le congiunzioni di Saturno e di Giove normalmente avvengono ogni 20 anni e avvengono sempre o quasi sempre nello stesso elemento questo avviene per circa 200 anni quindi Giove e Saturno qui hanno inaugurato una congiunzione in un segno d'aria per la prima volta dopo tanto tempo in realtà c'era già stato un episodio in bilancia nell'82-83 ma in ogni caso eravamo ancora in questo ciclo di 200 anni precedenti in cui le congiunzioni avvenivano in elemento terra ora c'è stato questo passaggio potentissimo dove le congiunzioni Saturno-Giove verranno in segni di aria e questi cicli durano 20 anni ma la prima tappa di questo ciclo è il loro sestile e vedremo quindi a cavallo tra il 2023 e il 2024 i primi risultati di questo ciclo con Saturno nei pesci e questo svelerà delle tematiche anche legate al progresso scientifico abbiamo visto il grande progresso in ambito energetico con lo sviluppo della fusione nucleare e così via ecco così come la prima tappa di tensione di questo ciclo dove invece vedremo i primi fallimenti o comunque la prima messa in discussione di questo impulso a cavallo tra il 2024 e il 2025 quello che a noi interessa sicuramente in modo più puntuale del transito di Saturno nei pesci è proprio il 2025 perché il 2025 figura la congiunzione tra Saturno e Nettuno questo è veramente molto molto importante il 2025 è un anno importantissimo perché come vedremo coinvolgerà queste tematiche soprattutto in ambito geopolitico che abbiamo accennato in modo preponderante perché questo? perché se diamo un'occhiata alle efemeridi grafiche della congiunzione di Saturno e Gioverno insieme vedete appena entrati nel segno dell'acquario dopodiché Saturno nel 2022 entra nei pesci scusate Giove entra nei pesci questa linea arancione Giove qui nel 2022 è in Ariete e nel 2023 è in Ariete a maggio entrerà nel Toro in questa seconda colonna ecco questo rappresenta i movimenti di questi due pianeti nel Toro ci sarà il sestile mentre con Giove nei gemelli ci sarà la quadratura con Saturno nei pesci però quello che ci interessa ora è prendere in considerazione il 2025 perché se noi aggiungiamo il transito del nodo lunare nord vedremo che durante la stagione la prima stagione dell'eclissi del 2025 avremo un coinvolgimento di Saturno nell'eclissi quindi nella prima sequenza nella prima stagione dell'eclissi del 2025 in particolare l'eclissi del 14 marzo del 2025 sarà un'eclissi lunare totale che figurerà Saturno in congiunzione al Sole e al nodo nord ecco questo è estremamente significativo perché sappiamo che l'eclissi portano grandi cambiamenti impulsi anche che possono essere degli sconvolgimenti non solo il 14 marzo ma anche il 29 marzo ci sarà un'eclissi solare parziale con Saturno sempre in congiunzione al nodo nord quindi coinvolto di nuovo nell'eclissi ora questo è di estrema importanza perché nel 2025 accadrà questa congiunzione di Saturno con il pianeta Nettuno e questa congiunzione è estremamente importante perché è una eco della congiunzione Nettuno Saturno-Nettuno dell'89 che avvenne nel Capricorno dove ci fu appunto la caduta del muro di Berlino ecco da questo punto di vista abbiamo quindi quindi la simbologia di Saturno come pianeta che porta dei limiti delle limitazioni dei blocchi anche abbiamo visto nei pesci in ambito marittimo quindi c'è questo tentativo di contenimento della Cina questo dal punto di vista dei transiti tenderà a fallire perché qualsiasi muro che venga eretto in questi anni verrà nel 2025 tra virgolette abbattuto dal fatto che Saturno passerà in ariete e perfezionerà la congiunzione con con Nettuno ecco poi Saturno inverterà il moto tornerà a retrogrado e ritornerà a breve periodo nei pesci però è importante riconoscere che la congiunzione tra Saturno e Nettuno avverrà nel segno zodiacale della riete perché è un segno zodiacale guerriero e essendo un segno zodiacale guerriero possiamo capire come questa rottura di questo muro di questo confinamento marittimo che gli Stati Uniti stanno costruendo avverrà attraverso una lotta uno scontro una battaglia diversi ecco specialisti insomma non certo io che non mi occupo principalmente di geopolitica iniziano a ipotizzare che si arriverà a uno scontro non più indiretto come è attualmente ma più diretto tra Cina e Stati Uniti proprio nel 2025 e da questo punto di vista i transiti non sono non sono favorevoli ecco quindi cosa possiamo fare per tutti coloro che percorrono un cammino di evoluzione spirituale riconoscere l'importanza del loro percorso e l'importanza del valore che il lavoro interiore il lavoro spirituale ha da un punto di vista sottile esoterico rispetto al mondo questo è anche ben delineato da Steiner nelle condizioni per l'educazione occulta riconoscere che i nostri pensieri e i nostri sentimenti sono forze reali e che sono in grado di agire sulla realtà più l'umanità tenderà a sprofondare nell'incoscienza o in una forma di coscienza ottenebrata più inevitabilmente si arriveranno a delle dinamiche tipiche del periodo dell'anima senziente quindi queste queste vere proprie guerre queste grandi guerre ecco quindi da questo punto di vista il transito di Saturno nei pesci è un invito a una presa di responsabilità del proprio mondo interiore e soprattutto del ricordare come il lavoro interiore non sia qualcosa di astratto ma sia qualcosa in grado di agire profondamente sui tessuti sottili che sostengono sostengono il mondo bene questo è tutto per questo approfondimento di Saturno nei pesci fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi invito inoltre a iscrivervi al canale attivare la campanella e condividere con i vostri amici o qualsiasi persona interessata a tematiche legate alla spiritualità questo video grazie a tutti a presto grazie a tutti